3 volte, 3 volte negli ultimi mesi ho iniziato e fallito a questa sfida ma oggi finalmente posso dire di esserci riuscito ho fatto 30 marchi in 30 giorni questo vuol dire che negli ultimi 30 giorni ho corso quasi 100 km fatto 3000 trazioni, 6000 flessioni e 9000 squat non avevo assolutamente idea di cosa volesse dire quando ho iniziato so solo che una sera ero lì, che stavo ripensando tutte le volte in cui ho fallito e ho fatto una cosa molto semplice cioè ho preso un foglio bianco e ho scritto 5 parole non sapevo che grazie a quel piccolo gesto oltre a mangiarmi quei 7 giorni sarei arrivato oggi a poter dire di aver fatto una cosa che nessuno su YouTube Italia ancora mi ha fatto 30 marchi in 30 giorni raga e questo è quello che è successo spero anche questa sfida riesca a farmi migliorare un attimo fermi tutti questi primi 7 giorni li ho mostrati così velocemente perché c'è già un intero video sul mio canale a riguardo per cui non aveva nessun senso perderci altro tempo detto questo comunque la sfida era teoricamente finita però ricordo benissimo che mi sembrava di non aver dato ancora abbastanza per cui ho di nuovo fatto una cosa davvero molto semplice ho ripreso un foglio bianco e ho di nuovo scritto 5 semplicissime parole era di nuovo tutto nelle mie mani da che parte volevo stare? quindi ottavo giorno ragazzi il cronometro non è ancora partito non so non so come lo sta facendo fare però siamo qui per questo per cose che nessuno ancora mai fa ragazzi oggi è il giorno 13 e purtroppo bisogna subito dire una cosa cioè che per gli scorsi 3 giorni non sono riuscito ad allenarmi perché sono stato in montagna e c'è un problema cioè che io devo fare 21 marchi in 21 giorni la soluzione purtroppo è molto semplice e sarà per i prossimi 6 giorni fare un marfe e mezzo ogni giorno in modo da recuperare i 3 persi sarà tostissima vai ragazzi siamo a 44 minuti ho finito le prime 20 serie dopo queste 10 avremo recuperato tutti i 3 marchi per cui iniziamo ultimo marchi in mezzo andato manca solo la corsa vado a correre e ci aggiorniamo domani con il diciottesimo giorno avevo quindi finalmente recuperato tutti e 3 i marchi persi e credetemi che far per 6 giorni un marchi e mezzo è stato terribile è una cosa che 1. non rifarei mai e 2. non augurerei mai a nessuno di dover fare detto questo comunque non vi ho ancora parlato del metodo che ho utilizzato per fare questi 30 marchi per chi di voi non lo sapesse un marchi sono 2 miglia di corsa 100 trazioni 200 flessioni e 300 squat e quello che ho fatto io per questi 30 giorni è stato sempre mettere la corsa alla fine in questo modo diventava sì la parte più difficile perché correre 2 miglia con 300 squat non è mai una bella cosa però allo stesso tempo rendevo fattibile il corpo libero detto questo ragazzi ero al giorno 19 e il fatto di essere teoricamente a 3 giorni dall'arrivo mi ha dato ancora la carica per riuscire ad andare avanti e non fermarmi perché il mio corpo iniziava davvero ad essere molto malconcio ragazzi sono a metà del diciannovesimo giorno mancano 3 giorni ormai ormai non si sente più il dolore ma se non ha voglia di chiudere questo suicidio non tentare raga continui il ventunesimo giorno mi sentivo davvero benissimo avevo appena chiuso una sfida che mai avrei pensato di chiudere e così ho fatto il marf convinto che non avrei mai più voluto sentire questa parola per un bel po' di tempo ero davvero fiero di quello che l'ho riuscito a fare ma ancora sentivo che mancava un piccolo passo per chiudere quel maledetto cerchio era mezzanotte ero a pezzi ma sapevo una cosa questo video dovevo parlare di 30 marfio in 30 giorni per l'ultima volta era tutto nelle mie mani volevo che questo video parlasse di una semplice sfida o volevo renderlo la testimonianza di una piccola impresa like you be strong to hold the powers of the sun until I walk awake scream my mind I shout the ground straight will it break can I take 24 andate 26 andate 29 ragazzi sono ormai non ho proprio più manca una in questi 30 giorni ovviamente mi aspettavo di migliorare e di metterci man mano sempre meno tempo ma la differenza che c'è stata tra il primo e il trentesimo giorno è stato davvero qualcosa che non sarebbe mai stato possibile pronosticare il primo giorno infatti ho impiegato un'ora e otto minuti a completare il marf e in particolare le trazioni mi hanno letteralmente ucciso il trentesimo giorno invece e credetimi sono io stesso il primo che mai l'avrebbe ritenuto possibile ci ho messo 35 minuti e 9 secondi 6 secondi e 9 secondi e boh è stata a mani basse la mezz'ora più intensa della mia vita perché non c'è stata neanche mezza pausa ma non perdiamo altro tempo guardate che bomba è stato il trentesimo giorno ragazzi ci siamo trentesimo marfe in trenta giorni oggi l'obiettivo non sarà solo mangiarsi questo marfe ma sarà mangiarlo nel minor tempo possibile l'obiettivo un po' ambizioso sarebbe stare sotto i 45 minuti via ragazzi siamo a 20 minuti e 48 oggi record assoluto parto subito a correre raga che è andato con un tempo record assoluto lo faccio vedere tra un attimo in casa adesso posa 5 minuti ma eccoci finalmente alla parte più importante del video per cui il confronto fisico finale a inizio mese la bilancia segnava 93.80 kg e ieri dopo il 30 marfe il peso era di 91 kg quindi quasi 3 kg in meno decisamente non poco ma diciamolo pure chi se ne frega di quel che dice la bilancia la cosa interessante è vedere come davvero è cambiato a livello quindi estetico il mio fisico per cui vediamolo subito che dire è stato un mese assurdo i risultati parlano chiaro io non vedo davvero l'ora di iniziare una nuova sfida da un mese e probabilmente quando vedete il video l'avrà già iniziata detto questo ragazzi noi ci vediamo nei prossimi video se il video vi è piaciuto vi chiedo davvero di lasciare un like che mi aiuterebbe tantissimo e basta ho detto tutto alla prossima ragazzi